E' ormai la porta portese a retina, il mercatino delle pulci che poi guai a chiamarlo mercatino visto che erano circa 600 gli espositori, conquista Arezzo e non solo ancora una volta. Svuota soffitte, handmade, collezionisti e vintage oppure il semplice gusto di comprare e vendere usato. Il motivo per partecipare conta poco, quello che conta è che ormai da semplice mercatino, nato più che altro per rivitalizzare una zona della città di Arezzo, Campo di Marte, adesso è un vero e proprio esercito. Al Palafari, nell'ultima edizione di domenica 17 settembre, gli avventori hanno dato l'assalto. I numeri sono in salita, oltre 30.000 le presenze da Perugia, Bologna, Milano, Viterbo, Rieti, Livorno e Frosinone. Il calcolo degli affari ovviamente non può essere preciso, l'incasso medio dei banchini oscilla tra i 250 e i 300 euro. Se facciamo il conto, di fronte ad una platea di 600 operatori cominciano ad essere davvero dei buoni numeri. Già in calendario le prossime edizioni, novembre, febbraio e poi aprile con il varo del Campo Scuola. La novità per l'edizione di novembre sarà il debutto delle Shoppers con il logo dell'iniziativa e non facciamo fatica a credere che verranno presto riempite.